Musica Soverei e Mannelli si conferma luogo di incontro di arte, di liberazione, di cultura con l'incontro che c'è stato in questa domenica così festosa e piena di gente che ha animato la nostra comunità. Parlare di arte a Soverei e Mannelli è qualcosa di consueto perché da sempre il nostro paese, il nostro comune, la nostra città si distingue per valorizzare la cultura come premessa di ogni autentico cambiamento e come premessa di ogni sviluppo economico. Quindi crediamo che quella di oggi è stata una bella giornata, una giornata da ricordare e che noi cerchiamo di valorizzare, di riproporre anche nelle attività che si svolgono all'interno della nostra comunità. Grazie. 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 Grazie.